Torta di mele facilissima e velocissima da realizzare, senza burro e senza olio, con un ingrediente speciale che renderà questa torta super soffice, ma soprattutto dal gusto delicato, adatta per la merenda o la colazione di tutti i giorni. Mi raccomando, provatela perché è una vera e propria delizia e ha una consistenza super super soffice. Provatela, mi raccomando! Per questa ricetta vi serviranno 3 uova. Dividete i tuorli dagli albumi. Montate a neve gli albumi e mettete da parte la ciotola. Mi raccomando, utilizzate le uova grandi, queste sono dimensione L. Quindi una volta che abbiamo montato a neve gli albumi, lavoriamo i tuorli. Versate 180 g di zucchero semolato e 150 g di panna zuccherata da montare. Lavorate benissimo il vostro composto per almeno 5 minuti. Utilizzo 2 mele. Queste pesano complessivamente 300 g. Vado a tagliare a dadini le mie mele. Verso 2 cucchiai di succo di limone e 1 cucchiaio di zucchero semolato. Amalgamate bene il tutto e poi versate nella vostra ciotola 200 g di farina 00 di grano tenero setacciata con mezza bustina di lievito per dolci. Amalgamate bene il vostro composto. A questo punto possiamo versare gli albumi montati a neve e con movimenti che vanno dal basso verso l'alto incorporiamo bene gli albumi al nostro composto. Una volta fatto questo possiamo versare le mele all'interno del nostro composto e continuiamo ad amalgamare le mele con movimenti che vanno dal basso verso l'alto. Vi servirà uno stampo a cerniera diametro 26. Io ho foderato la stampa a cerniera con la carta forno, se volete potete imburrare e infarinare il vostro stampo a cerniera. Infornate con un forno preriscaldato a 175 gradi per 30-35 minuti. Molto dipende dal vostro forno, quindi controllate costantemente la cottura perché ogni forno funziona in modo diverso. Come vedete al taglio si presenta super super soffice, buonissima e credetemi la consistenza è diversa dalla classica torta di mele. Super super irresistibile, si scioglie letteralmente in bocca. Provate la torta di mele by Cartesia. Ciao alla prossima!